Cari amici ben ritrovati, cari amici di Agronotizie sarà un weekend tranquillo, soleggiato, con foschie e nebbie sull'Italia nelle prime ore della giornata, di notte, nelle ore più fresche, ma a mite di giorno. Ci sarà però il rischio di nuvole basse sulla pianura padana, soprattutto da sabato in poi, o meglio al primo mattino, anche nella giornata di venerdì, poi tra sabato e domenica tenderanno ad insistere e a perdurare anche durante il giorno, sempre sulla pianura padana. Poi lungo il versante adriatico qualche nuvola bassa potrà ogni tanto interessare anche le zone costiere. Quindi questo è lo scenario previsto nel corso del weekend, mite di giorno, fresco e umido di notte, rischio di nubi basse che tenderanno pian pianino a stazionare in maniera un po' invadente. Arrivederci!